Ciao a tutti, sono Lorenzo Favaro e sono il consulente Italia di Pixelot. Vi voglio fare vedere un esempio di un'analisi di una partita di basket. Come potete vedere, in questo momento mi trovo su una pagina internet e sto visualizzando quello che ho ripreso con la Pixelot Air qualche giorno fa. La pagina di Pixelot Air mi permette di vedere il video, mi permette di vedere il riquadro con il tempo e il risultato. Ok, questo lo fa in automatico la tecnologia quando riconosce il tabellone nel lato opposto alla registrazione. Qui a destra invece ho l'analisi automatica che fa la tecnologia per quanto riguarda i tiri liberi, i tiri da 2 e i tiri da 3. Molto importante anche questa opzione che mi permette di passare da una ripresa con zoom sulla palla a una ripresa a full campo, ossia di vedere tutto quello che i 180 gradi della mia telecamera hanno ripreso durante la registrazione. Qui a destra, attendiamo un attimo che il portale internet mi vada a caricare questa nuova ripresa che ho selezionato. Qui sulla destra, l'intelligenza artificiale, ok, in automatico mi va già a taggare i tiri, i tiri da 2, i tiri da 3, ok, e attribuisce il numero di maglia. Con questo pulsante Edit posso entrare, in questo caso non essendo io l'amministratore sono bloccato, e posso modificare sia la durata che l'inizio nella fine. Questo tipo di ripresa, come potete vedere, è la ripresa, viene chiamata panoramica, di tutto il campo di gioco. Quindi io se la apro a tutto schermo, posso con il mouse scegliere la parte di campo, zoomare e tenerla fissa, o in automatica tolgo tutto lo zoom, e in questo caso io vedo tutto il terreno di gioco in 4K. Fate una prova collegandola a un televisore, la qualità è eccezionale. Posso scegliere il tipo di risoluzione, il tipo anche di velocità, ok, se clicco questo pulsante, ritorno, ok, nella sezione precedente, che è quella che prevede come prima ripresa la ripresa con zoom sulla palla. Qui a destra trovo l'elenco, la cronologia di tutti gli eventi, quindi se clicco il pulsante su 3pm, andrò a vedere al minuto 52.21 la giocata che ha portato, ok, il tiro da 3 con canestro. Quindi in automatico il sistema mi tagga tutte quelle azioni che hanno portato a un tiro da 2, da 3, o un tiro libero, ok, con conseguenza del canestro. Perfetto. Questo tasto qui mi permette di selezionare il link, copiarlo, condividerlo, e quindi permettere a tutti gli utenti di poterlo visualizzare, e soprattutto andando poi a se, vedete, ho la restrizione in quanto io non sono l'amministratore, se seleziono alcune clip posso crearne una unica, come posso, cliccando questo pulsante qui, andare a creare delle nuove clip. Quello che è importante da dire, soprattutto per gli allenatori, è che questa è una ripresa che io posso scaricare interamente, come posso scaricare interamente la ripresa questa qui, che è quella panoramica, ossia del tutto il terreno di gioco. 26 il numero di visualizzazione che sono state fatte, ok. Allargo ancora lo schermo per farvi vedere la comodità, immaginate, vado a riprendere gli allenamenti, un gruppo si allena in questa sezione, gestita dal capo allenatore, l'altro gruppo si allena dall'altra parte, e il capo allenatore e il coach può andare, ok, a rivedere qualsiasi tipo di esercitazione. Bene, questo è una panoramica molto veloce di quello che è il servizio di ripresa video della Pixelot Air, per qualsiasi cosa potete contattarmi.